C'è un altro episodio celebre che ti riguarda, purtroppo per te, la famosa punizione, no? Dentro l'area di ricordo, una punizione a due, una posizione impossibile, non te l'aspettavi poter segnare da quella posizione? Ma tu pensa che se io la paravo mi davano otto in pagella e meno male che non l'ho parata. Perché è entrata nella storia? Perché secondo me è il secondo gol più importante di Diego. Dopo quello che ha fatto all'Inghilterra? Questo mi dà una gioia immensa.